Un Natale atipico dal valore diverso ma l'occasione per approfondire le ragioni autentiche, originarie e profonde della spiritualità della solenne festa della nascita. Questo Natale deve essere vissuto con grande speranza, così sua eccellenza Monsignor Andrea Bellandi che in una lettera si rivolto ai fedeli e a tutte le persone, anche quelle più distanti, per portare un messaggio di speranza. La pandemia non ancora debellata non ci permetterà di incontrarci per la Santa Messa di mezzanotte e limiterà gli incontri, ma mai come in questo contesto bisogna ricordarsi che non siamo soli, il Signore con noi viene e tocca a noi accoglierlo, è il nostro conforto. Così questa mattina i nostri microfoni, il Monsignor Andrea Bellandi, in occasione della visita ai pazienti ricoverati nella casa di cura Villa del Sole di Salerno. Credo che siano le persone più bisognose di sentirsi dire un messaggio di speranza, di conforto e cosa meglio del Natale, insomma credo che questo Natale dentro il buio che stiamo vivendo rappresenti una luce importante e quindi direi soprattutto per coloro che stanno più nella sofferenza. È proprio nel senso appunto di portare un messaggio che sia un messaggio di speranza in questo periodo e la nostra speranza è data dal Natale, ecco dal fatto che Dio si è fatto uno fra noi. Sì, direi che proprio questo è il valore del Natale di quest'anno, cioè venute meno un po' le luci, i motivi anche di distrazione per carità anche belli, però siamo invitati a approfondire le ragioni autentiche, originarie e profonde di questo Natale e quindi sì, un ritorno diciamo alle origini. Ecco, più volte si è detto questo è un Natale diverso, ma non si confonde secondo lei il cristianesimo con la parte economica del Natale? Eh sappiamo bene che è sempre un po' stato così, cioè l'aspetto diciamo più materiale si è accompagnato all'aspetto spirituale. Quest'anno la dimensione appunto consumistica ovviamente in secondo piano e quindi auguriamoci che emerga quel valore, quel significato che noi cristiani riconosciamo a questo evento. Ecco, il Covid richiede di vivere questo Natale in maniera diversa, anche le celebrazioni saranno effettuate in maniera diversa, in orari diversi, bisognerà tenersi a tutta una serie di prescrizioni. Come sarà il Natale in chiesa il giorno della vigilia? È un sacrificio che ci è chiesto di fare, credo che i sacerdoti abbiano sempre risposto in modo molto attento e molto direi rispettoso dei distanziamenti e delle norme richieste. Anche questa notte sarà vissuta con questa attenzione, ma credo che non impedirà di vivere appunto con gioia, con serenità e con fede questo momento solenne. Che sia un Natale che risvegli i cuori e la sensibilità delle persone, qual è il messaggio che lei rivolge ai salernitani? Speriamo, speriamo perché ci sono motivi di speranza, oltre che quelli dati dagli aspetti medici, la nostra speranza poggia su appunto il fatto che non siamo soli, ma è il Signore che si accompagna a noi.